Domanda, quando si afferma una ideologia, quando è ripetuta da mente a mente in un numero sempre più grande di persone, allora l'ideologia si diffonde per contagio, fino a quando sopraggiunge la nuova ideologia, che scaccia la vecchia dalle menti e crea una nuova forma pensiero. Le abitudini. Domanda, perché sono condizionato dalle abitudini? Al momento attuale della tua evoluzione tu non avresti bisogno dell'eliminazione di un'abitudine, ma della scelta di quale sia l'abitudine per te oggi più consona, tenendo presente che l'abitudine di oggi potrebbe limitarti domani. Sii quindi sempre cosciente di ciò che fai, fai attenzione cioè alle tue motivazioni interiori e cerca in te l'abitudine più adatta all'evoluzione che hai raggiunta.